Sono diventati virali ormai i video come questo che raccontano dell'intenso pomeriggio che ha visto lo sgombero del campetto occupato dagli anarchici a Giulianova, tra tensioni, minacce e denunce. Tutto è cominciato con il presidio organizzato davanti al cancello dell'area di Viale dello Splendore, di proprietà dell'Istituto Educativo Castorani dell'ASP2 Teramana, azienda pubblica di servizio alla persona. Tra la folla c'erano la presidente dell'ASP2, Giulia Palestini, con un gruppo di ragazzi disabili di Rurabilandia, fruitori del campetto. Il sindaco Ivan Costantini, con alcuni componenti della giunta e le forze dell'ordine. La trattativa per liberare il campetto è stata lunga. Massima tensione si è raggiunta quando l'assessore Paolo Giorgini ha tentato di tagliare la catena del cancello con una moletta. Alla fine gli anarchici, che avevano occupato il campetto nella notte tra domenica e lunedì, dopo esser stati allontanati dall'area dell'ex depuratore, hanno deciso di liberare lo spazio dell'ASP2. Poche ore dopo però, nuove tensioni davanti al municipio, dove si stava tenendo una riunione di maggioranza e dove si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Lì sarebbero volate minacce verso il primo cittadino, la sua famiglia e gli amministratori da parte di una decina di faci norosi, come denunciato pubblicamente da Costantini che chiede risposte e provvedimenti immediati. La situazione, dice, è intollerabile. Oggi, sulla vicenda, è intervenuto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha affermato, dopo le minacce di morte rivolte al sindaco di Giulianova e a suo figlio, esprimo la mia solidarietà e quella della giunta regionale a Ivan Costantini, che insieme alle forze dell'ordine ha contribuito a riportare la legalità, restituendo all'ASP2 e ai ragazzi che ne fruiscono la disponibilità di un'area abusivamente occupata a Giulianova. Mi auguro che chi con minacce azioni illegali arriva a minacciare la morte venga identificato presto dagli investigatori.